Abbiamo chiuso una brutta parentesi, è quella del cancro sconfitto, adesso si va avanti. Meteolus rafforza l'impegno già esistente, quindi tutto quello che è la mediazione giuridica, sociosanitaria, nella formazione dei diritti umani, perché è quello che noi aumentiamo adesso. L'assistenza psicologica, insieme a Tiziana Ciavardini, antropologa culturale, le fa parte di Mete, è consulente per la causa iraniana, abbiamo scritto un testo, per l'edito a Castelvecchi, sul velo islamico. Da diversi mesi portiamo avanti la questione del velo, è un conflitto permanente, il velo deve essere una libera scelta, in alcuni casi è costrizione, ma vogliamo anche stigmatizzare l'utilizzo. Non tutte le donne sono delle donne oppresse. Ne uscirà anche un testo di catastrofi, ne sono maestra, perché tra lesione midollare e cancro ho dato, ma anche la mia vita è una vita dove affronto delle catastrofi affrontate sempre e poi risolte anche con amore. Ma l'impegno anche nel mondo oncologico, della prevenzione, stiamo lavorando ad un'iniziativa molto importante, dipende da te, la prevenzione dipende da noi, dobbiamo farla, saranno donati dei turbanti, ma di questo insomma ne parleremo, ma anche la realizzazione intanto di uno spot. Io, probabilmente per questioni memetiche di famiglia, ho deciso di unire le arti varie, la danza, il teatro, l'audiovisivo, all'impegno umanitario. Diffondere attraverso l'arte i diritti umani è bello, è questo un impegno, ho deciso questo, a me piace molto. Io ho iniziato una collaborazione con Alessandro Yenzi, un regista avvocato, ma anche con Gaetano Lamantia, un ballerino del teatro Massimo, perché insieme vogliamo diffondere e comunicare l'impegno sociale attraverso l'arte. A proposito di impegno sociale, a proposito di diritti umani, tu non hai mollato un passo neanche durante la tua malattia. Mai! Adesso mi chiedo come ho fatto tutto questo, perché ci sono stati dei momenti, in quel momento era in corso la campagna dedicata all'Iran, poi subentrata quella sul velo islamico. Io non ho mai smesso e questo è un invito a non mollare mai, a non smettere. Bisogna sempre impegnarsi, indubbiamente quando si è malati bisogna concentrarsi. Io sono rimasta lucida, sono arrivata stremata e stanca, perché comunque ho subito di interventi, ho fatto tanta chiamio radio, quindi è normale. Io ne approfitto attraverso le vostre telecamere, la vostra evitante, per ringraziare tutta la parte medica, la parte sociosanitaria e paramedica, perché si è intanto affrontati anche in un contesto difficile. Io ho fatto le cure, successiva agli interventi, ma poi tutte le varie visite durante la pandemia. Non è stato proprio semplice, ma a loro va un plauso per l'amore, la cura e la dedizione che offrono a ciascun paziente.